eccoci ben ritrovati per questa ottava puntata di half time talk procede tutto bene stiamo andando ogni venerdì in diretta insieme a voi ci stiamo trovando molto bene io insieme ovviamente come sempre al mio compagno di viaggio che tra poco vi presento come sempre vi ricordo che stiamo oltre a pubblicare ogni settimana su youtube queste puntate vi stiamo tenendo compagnia anche su instagram quindi con la nostra pagina ht-half time talk ma come sempre lo faremo anche su tutte le altre canali social della nostra tv quindi canale europa sport come appunto ho preannunciato prima la primissima cosa da fare ogni puntata ancora prima di parlare di nba ancora prima di dire quali saranno i temi della puntata che come sempre saranno tanti vi devo presentare il mio compagno di viaggio eccolo qua ecco a voi daniele pozzoni ciao danni come stai ciao a tutti i nostri followers se così possiamo chiamarli è di half time talk è un'altra settimana di nba che sta procedendo ormai abbiamo passato il quarto di stagione già sembra ieri che abbiamo fatto i nostri pronostici e oggi già inizieremo a vedere quanto ne abbiamo quanto ne abbiamo prese sull'nba cup che appunto è alla sua fase pronta per la sua fase eliminazione diretta che è sicuramente la parte un po più forse divertente le partite di quarti di finale ma non saranno gli unici temi di questa puntata perché vedrete che e sentirete soprattutto opinioni sulle più varie squadre non solo le protagoniste dell'nba cup quindi io direi già già di partire la cosa che ovviamente il premio sottolineare è che ovviamente c'è una squadra delle nostre rappresentate che ok si boston quest'anno ha abbandonato la competizione prima ancora di arrivare alla parte saliente ci sta lasciamo lasciamo qualcosa anche agli altri direbbero gli saggi allora starting five cambiamo subito argomento perché non ho non ti ho sentito bene in cuffia nell'ultima fase ok va bene ci sta so solo che c'è ancora tanto da parlare di nba cup quindi direi cambiamo argomento subito perché dietro vedo di noia abbiamo due maglie dei lakers una col 3 una col 6 quindi uno lebron e uno davis ovviamente perché come primo argomento dello starting five vogliamo subito parlare di questi lakers che ne abbiamo parlato bene abbiamo detto che comunque era una squadra in transizione una squadra che stava ovviamente doveva fare un percorso di crescita enorme rispetto anche le scorse le scorse stagioni nuovo allenatore che è praticamente un rookie giocatori non nuovi perché come vediamo in in grafica ci sono due dei più veterani importanti della della lega il problema è che uno dei due danni come abbiamo pubblicato in questa settimana anche sui sui nostri social prendendolo un po in giro se possiamo permetterci è lebron james che appunto non so cosa cosa ne pensi tu ma sembra in un periodo un po di difficoltà fisica forse o più mentale penso fisica no ma l'impressione che si sia spento il motore tutto ad un tratto c'era partito ancora molto bene quest'anno però è come se avesse finito la batteria di punto in bianco stiamo parlando ti ho mandato la statistica oggi del peggior difensore nba secondo i dati ovviamente perché ha il il player defensive player rating più basso tra chi gioca più di 30 minuti a partita quindi è un buco in difesa possiamo dirlo tranquillamente in questo momento io ho docchiato le ultime partite i lakers la transizione difensiva che già era un problema sta diventando sempre peggio ho visto una partita di davis in cui si rifiutava addirittura anche lui di difendere quando hanno perso l'altro giorno di 40 veramente veramente male con tanto di commento di di magic johnson a metà terzo quarto dicendo questi lakers sono in stato imbarazzante la verità è che che la squadra è sempre quella cioè cambiato il coach è vero ne abbiamo parlato e sicuramente in attacco ha portato dei cambiamenti però i lakers oltre a lebrone davis sono una squadra di giocatori monodimensionali cioè fanno bene una cosa e il più delle volte qualcuno fa bene una cosa in un lato del campo ma nell'altro non lo fa bene cioè reddish che vediamo inquadrato in foto è sicuramente un difensore sopra la media per quanto riguarda i lakers ma in attacco è un danno l'altro ragazzo che è girato in questo caso è christy e anche lui va come per reddish lo stesso discorso abbiamo parlato tanto bene di dal dog net che è vero che in attacco apre il campo e fa e fa tanto ma in difesa invece ovviamente essendo rookie è un po più soggetto a dare dati negativi quello che ti volevo chiedere è anche una sprovocazione non so se hai visto le tabelle di 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 plus minus dei lakers il migliore è d'angelo russell che ha un 63 o più 53 nei minuti in cui è in campo che sembrava essere il problema sicuramente il fatto di essere stato spostato a sesto uomo lo ha aiutato però secondo me quello che penso sia sul plus minus in generale tanto perché ho anche una statistica un'altra da dare sul plus minus prima volevo rispondere alla tua di d'angelo russell secondo me è quasi un fattore quasi mentale il suo a differenza degli altri cioè è abituato da così tanto tempo a essere attaccato o insultato o essere colui che è scarso quello che è il problema eccetera che in una situazione così di difficoltà non va in crisi magari come altri non dico che lebron sia in crisi ovviamente però altri giocatori come lo stesso reddish christy sono giocatori che tranquillamente possono andarti in difficoltà quando magari vedono che non vanno più le cose tutte bene l'angelo russell secondo me da quel punto di vista sia per come è fatto lui quindi si vede che comunque uno che magari se ne sbatte se così vogliamo dirlo ma proprio ha una mentalità anche la sua risultanza non lui sangue freddo quindi anche se tutto va male lui continua col suo gioco quindi anche nel bene nel male questo problema perché quando tutto va male il resto bene lui continua a andare male quando tutto va male lui magari va bene continua a andare bene quindi è un po' una freccia che va che va un po' per conto suo in bene e in questo caso in bene anche se spesso è andata in male forse l'altra cosa che volevo dire sul plus minus che è un dato che poi mi ricollego a una domanda finale su lebron cioè che se d'angelo russell è il migliore in plus minus lebron non solo è il peggiore della sua squadra ma è il quindicesimo peggiore della lega e dietro di lui ci sono 13 giocatori che sono divisi tra le due o tre squadre che sono ultime in classifica quindi washington detroit e jeremy grant di portland quindi quello che volevo chiederti perché dalle tue parole mi sembrava che avessi un'idea che in realtà io non rispecchi completamente la mia perché secondo me quello di lebron è un periodo quindi magari adesso succede qualcosa magari un mese eccetera e poi torna sui suoi livelli secondo te può essere una cosa dico definitiva ma è l'inizio di un calo di un calo più generale io penso che dipenda un po' da quello che vuol fare lui nel senso ne abbiamo parlato bene inizio anno rispetto alle olimpiadi che ha fatto dove sicuramente aveva una possibilità di avere dei compagni che gli davano molto più una mano di quanto non possano fare i lakers e io credo anche che le olimpiadi siano uno dei motivi per cui adesso non è così a posto perché comunque ha finito la stagione scorsa cercando di portare i lakers al playoff ce l'ha fatta sono usciti al primo turno ma comunque è stato disposto ha fatto l'estate appunto con team USA e credo che adesso dopo una buona partenza sia un po' a corto di ossigeno ecco il mio dubbio è che sicuramente rispetto a tre anni fa, quattro anni fa quando comunque parlavamo di un giocatore anziano per la Lega di 36-37 anni la situazione è un po' diversa cioè o si convince che può avere un ruolo un po' diverso rispetto a prima quindi un minutaggio anche più limitato dove possa dare un effort anche in difesa un po' più pronto ma questo significa anche avere alle spalle una squadra che possa sopperire questa mancanza e il problema è che i lakers, cioè l'alternativa che hanno è appunto dare la palla in gestione ad Angelo Russell di cui tu hai parlato appunto bene però sappiamo di essere un giocatore altalenante però io ho visto l'ultima parte di Lebron dove non ha fatto bene non quella con Miami dove un po' si è ripreso ma passaggi sbagliati di tre metri, transizioni difensive che chiamarle difensive è una roba un po' troppo ottimistica nel senso che camminava rientrando che sono cose che di Lebron si sono viste negli anni per carità perché poi per avere quell'importanza in attacco comunque qualcosa devi sacrificare però ecco a questo punto a 40 anni è la situazione un po' diversa credo che dobbiamo un po' ridimensionare forse noi tutti l'idea che abbiamo di Lebron come sicuramente un giocatore che nella partita singola può ancora dire la sua ma su 82 e a maggior ragione ai playoff forse il treno è passato per i Lakers per vincere con lui penso che sia questo un buon discorso sono pronto a vederlo rinascere dalle ceneri a metà stagione e riportare in alto e in auge i suoi Los Angeles Lakers altro giocatore molto veterano anche lui ma che sembra aver ritrovato sembra essere rinato anche lui dalle ceneri è James Harden andiamo al secondo punto quindi della nostra notizia della settimana perché la seconda settimana di fila intanto che parliamo di James Harden in quanto nel nulla dei Los Angeles Clippers che in realtà non sono nulla perché abbiamo detto che sono una bella squadra ma come singoli lui sta ampiamente dominando e sta permettendo poi ai Los Angeles Clippers secondo me di essere una buona squadra perché se non hai poi le prestazioni di un singolo di questo livello è difficile poi mettere insieme tutte le cose come vediamo dalla grafica nella partita contro i Portland Trailblazers di questa settimana è riuscito a superare contemporaneamente grazie ai suoi 21 punti sia Avlicek che Paul Pierce quindi due leggende tra l'altro di Boston è arrivando al 17esimo posto all time nello scoring leaders abbiamo già parlato spesso di Hadden anche in questa stagione volevo dirti giusto un dato cioè insieme a Lebron è l'unico nella top 20 all time in tre categorie diverse quindi sia scoring leader che assist che triple non so se possa mantenere questo ritmo tutta la stagione però la buona notizia se vuoi commentarla velocemente è che si dice che prima di Natale potrebbe tornare Kawai quello sarebbe un buon supporto per lui ma chi te l'ha detto la CIA per Kawai te l'ha detta perché ce lo auguriamo tutti che torni Kawai e ci auguriamo tutti che torni in una condizione accettabile perché vorrebbe dire che i Clippers potrebbero tornare ad essere una squadra ancora più forte di quanto comunque non siano in questo momento anche loro galleggiano nella zona sesto posto o sesto ottavo posto sul Barba io ho poco da aggiungere è un giocatore che ho sempre adorato a dispetto di tutte le critiche che si è preso continuo ad adorarlo penso che anche per lui come detto per Lebron prima ci sia un discorso da fare nel senso che non ci si può più aspettare che facciano quelle cifre di cui ci abbiamo abituato non so i Rockets del 2018 per esempio che sono stati forse la squadra andare più vicina a battere la squadra più forte della storia di Golden State quindi io credo che sicuramente questo è un riconoscimento della carriera del tipo di carriera che ha avuto Arden appunto il fatto di essere nei migliori di queste tre classifiche tra assist, punti e tiri da tre penso che in questo momento il suo ruolo di come si può dire di facilitatore quindi di giocatore che gioca per gli altri e tiene il ritmo della squadra l'abbiamo detto settimana scorsa di quanto stia aiutando i Clippers non sono sicuro che anche lui nei finali di partita o comunque ai playoff possa ancora essere la punta di diamante di una squadra da titolo ecco questo su questo sono un po' più dubbioso ma ovviamente tutta la mia merizione per il Barba non cambierà a prescindere da questo giudizio ecco purtroppo molto spesso si è parlato di questo fatto soprattutto nel suo prime quindi tanto più con una squadra intorno del genere la vedo più complicata nei miei attimi di nerd sono andato a fare un mini calcolo cioè sono andato a vedere quanto tempo potrebbe impiegare a entrare nella top 10 dello squaring leaders quindi ho fatto un calcolo e vedendo che alla top 10 gli mancano circa 1800 punti potrebbe metterci circa con la media che sta tenendo di 21 e qualcosa a partita una novantina di match che secondo me vuol dire metà prossima stagione penso che a meno che non succedano cataclismi prima dovrebbe farcela almeno raggiungere quelle e sarebbe un'altra testimonianza della grandissima carriera che ha avuto e anche della longevità della carriera che ha avuto perché poi parliamo di un giocatore che comunque finora si è avuto qualche problemino fisico ma se è andato in top 10 vuol dire che comunque sei anche stato un atleta ben più importante di quanto negli anni non gli sia stato riconosciuto con le maglie nonostante nonostante gli insulti alla forma fisica che ha ricevuto esatto e gli strips che frequentava ma questa è un'altra storia magari anche per quello che è andato a tempo potrebbe arrivare passiamo però al terzo punto che secondo me ci rende felici entrambi perché è un attestato sia per noi che in generale per la forza dei due giocatori perché abbiamo i player of the month per ottobre e novembre quindi i primi due mese e mezzo comunque di NBA da una parte abbiamo il tuo pupillo Shea Gilgis Alexander dall'altro mio Jason Tatum più di questo non saprei cosa dirti ti chiedo prima te visto che magari non ho parlato un po' di più di Tatum cosa pensi rispetto all'anno scorso di aver visto magari in più di Shea se è cambiato qualcosa se ti sta continuando a convincere o comunque un parere personale sulla stagione finora ma allora al di là del premio che vale quel che vale e comunque torno al discorso che ho detto anche a te cioè è assurdo che comunque hanno premiato due giocatori che poi non sono primi nell'RVP ladder perché giustamente c'è Nicola Jokic e io non capisco sì però i primi due mesi di regular season cioè dovrebbero rispecchiare la classifica dell'MVP e non capisco perché il premio non è andato a Jokic ma questa anche questa è un'altra storia rispetto a Shea sicuramente penso che il record testimoni la bontà della squadra di OKC che ha perso forse il secondo violino in difesa in attacco che ha accettato ma sicuramente ha perso il suo perno difensivo abbiamo recuperato Artenstein per fortuna che ci dà un po' più di size sotto canestro sta prendendo rimbalzi su rimbalzi anche stanotte 16 io credo che Shea sia arrivato ad un livello che lo mantiene con quella costanza di cui per esempio abbiamo parlato del Barba prima cioè guardiamo le cifre vediamo 29.8 quindi praticamente 30 punti a partita e lo diamo per scontato ecco non lo darei così per scontato è una realizzazione incredibile quest'anno ha migliorato almeno nella percezione mia la percentuale da 3 punti o comunque i tiri da 3 non so se nei numeri questa cosa è correlata cioè è un dato che dovrei verificare che mi viene da pensare pensando alle partite che gli ho visto fare mi sembra ancora di più in grado di leggere le fasi di gioco ancora meglio di prima e credo anche che appunto l'innesto di Artenstein lo aiuti in tutta quella fase di utilizzo del pick and roll o comunque di gioco o di schemi di gioco che sono propri di ok si con questi continui tagli a canestro di tutti quanti lo mettano ancora a punto in una condizione in cui la conoscenza del gioco l'esperienza che sta accumulando lo possa portare a esprimere questo potenziale enorme ancora di più ai playoff che è dove quest'anno mi aspetto un ulteriore salto da parte di Shay non so cosa la posizione di Tatum ma penso che il discorso sia più o meno lo stesso albio ha detto che lui ha un anello al dito ce l'ha già quello lo avvantaggia penso molto però c'è stato un percorso prima che Shay penso abbia già iniziato lo scorso anno e che ovviamente si spera possa concluderlo prima o poi per Tatum la differenza se vogliamo più parlare rispetto all'anno scorso secondo me sta prendendo tiri un po' differenti per quanto continui in certi momenti a sparacchiare a caso e mi irrita molto quando lo vedo però nel nel complesso sta migliorando molto perché mentre prima su cinque partite nel clutch time nel clutch time almeno in quattro prendeva tiri senza senso adesso almeno solo più in due su cinque cosa che ha fatto appunto nell'ultima che mi sono dovuto sorbire l'ultima sconfitta erano un vantaggio di quindici come stavo dicendo ci sono dei momenti in cui forse si sente di dover prendersi a responsabilità esagerando un po' perché magari non servirebbe neanche soprattutto in base ai compagni di squadra che ha però è una crescita enorme secondo me si sta vedendo e molto secondo me è dato dalla leggerezza di avere un anello in più al dito come dicevi tu perché ovviamente ti cambia tanto ti dà la possibilità anche di sperimentare di avere più tranquillità eccetera quindi sicuramente speriamo tutti e due di vederli ancora meglio un po' più avanti nella stagione ultime due notizie della settimana per arrivare alla quarta e poi alla quinta già ridiamo perché si parla di due squadre dopo vedremo anche la quinta notizia però una negativa una positiva partiamo da quella negativa perché vediamo le facce qua di Cusmo e compagna cantante perché no win november mi sembra che stia spiegando tutta la situazione di Washington Wizards che non solo hanno perso 15 partite su 15 durante novembre ma già dicembre è iniziato con due sconfitte su due come se nulla fosse ti faccio subito una domanda così come se ti faccio solo la domanda per vedere una tua previsione Detroit l'altro anno è arrivato a 28 dove decidi tu se ci arriva anche i Wizards o no diciamo che a livello di come si può dire di schifo sì ecco l'unica parola che mi viene in mente sono abbastanza sono abbastanza assimilabili hai citato settimana scorsa Mark Goldine no non mi ricordo mai il nome di quel personaggio che fa Goldine Goldine esatto bravo Kirk Goldine Kirk non so perché mi viene Mark comunque lui che fa i suoi grafici e questa settimana ne ha fatto uno bellissimo che riassume perfettamente la situazione a Washington dove metteva il suo solito grafico con ottima difesa ottimo attacco in quattro quadranti e in alto a destra cioè super attacco e super difesa c'era l'emoticon di una cabra che sta a significare ovviamente i Gold cioè la squadra migliore e sotto c'era scritto qualsiasi squadra affronti Washington ed è la verità cioè se avete una crisi anche voi che magari giocate a basket o comunque andate a Washington nelle minor ma dei tuoi tiri nelle minor sicuramente prendete più fiducia di quanto non ne abbiate in questo momento perché sono veramente in una situazione imbarazzante io vedo l'unico spiraglio di positività sono i progressi di Koulibaly di cui avevamo parlato l'anno scorso già come possibile futuro su cui iniziare a progettare la franchigia sicuramente lui sta migliorando oggi ho visto la possibilità da parte di diverse squadre da 15 dicembre di poter prendere Valanciunas che è un giocatore che è lì ma non si sa bene perché è lì e sicuramente se ne andrà appena potrà ma anche Kuzma io penso che potrebbe potrebbe andarsene in questa 3 deadline e il discorso però che abbiamo detto tante volte è che io non vedo una direzione a Washington cioè è vero che è un rebuild che ha appena iniziato perché è dall'anno scorso il passaggio di Bill a Phoenix però iniziamo già a essere a un anno e qualche mese e non c'è orizzonte non vedo orizzonte l'unico orizzonte che si aspettano di vedere penso sia Cooper Flagg cioè la scelta numero uno esatto al prossimo draft credo sia quello il loro unico obiettivo infatti proprio volevo dirti l'unica soluzione l'unica strada che vedo sia quella di riuscire a raggiungere la prima posizione e prendere Cooper Flagg per rebuildare magari su di lui e con lui però la vedo comunque complicata come strada ultima squadra invece quinto punto ultima notizia della settimana torniamo a parlare di Dallas Mavericks perché avevamo forse parlato male ma non perché non vogliamo bene a Don Cicci e Compagnia ma perché stavano andando in effetti male erano tra le ultime tra le ultime all'interno della Western Conference giusto dieci partite fa il problema è che poi hanno messo in fila un bel filotto di nove vittorie con solo una sconfitta nelle ultime dieci che le ha fatte balzare da praticamente cinque sette di record quindi un record abbastanza negativo soprattutto per la Western Conference a questo stupendo terzo posto in ovest che li sta portando praticamente a tornare a competere comunque per ciò che hanno raggiunto l'anno scorso cioè quelle finals che secondo me è di nuovo l'obiettivo comunque di Dallas Mavericks nonostante all'inizio della stagione sembrassero più in difficoltà però non so se se li vedi comunque ritornati sulle loro sui loro sul loro modello di gioio eccetera nel cercare qualche dato e volevo renderti partecipare di questo penso che anche tu l'abbia visto è il fatto che comunque tante di queste vittorie sono arrivate con Don Cic fuori avevamo parlato della situazione fisica di Luca che non era diciamo delle migliori è rientrato stanotte ha fatto una tripla doppia indovina con chi ovviamente contro Washington però al di là di questo ha fatto anche un'altra signora partita per qualificare Dallas alla fase finale l'NBA Cup martedì sera però il discorso che stavo facendo è che in queste dieci partite sei di queste sono state senza Don Cic e Dallas ha un record di 5-1 senza Don Cic in questa stagione cosa che non è facile da vedere soprattutto se pensiamo alle due scorse regular season dove Dallas nelle partite senza Luca Don Cic aveva avuto come risultato una 8 vittorie e 17 sconfitte quindi questo sta a significare sicuramente l'evoluzione che il roster ha avuto grazie al GM Nico Harrison che ha sicuramente fatto le scelte giuste circondando Don Cic di giocatori interessanti di nuovo sottolino le prestazioni di Kyrie che continua nel suo percorso di seconda stella ben come si può dire inquadrata ecco quindi io credo che ci siano molti segnali positivi e il segnale più positivo di tutti appunto è il fatto che Don Cic ancora secondo me non è entrato a pieni giri nel motore di questa squadra quindi la situazione può solo che migliorare credo esatto e comunque io se devo scegliere preferisco sempre avere in squadra Luca Don Cic rispetto a noi soprattutto dopo che Najee Marshall ha detto che è un ottimo difensore Luca Don Cic quindi noi vogliamo credere a lui e prima o poi ce lo dimostrerà perché soprattutto la scorsa stagione quando contava non l'ha dimostrato troppo però ti diamo fiducia però nel cercare i dati che ti dicevo ho visto anch'io che ci sono anche dei dati che dicono questa cosa oltre ai dati potrò vedere magari prossima settimana soprattutto con l'NBA Cup mi guarderò magari ovviamente dall'asse le sue partite per cercare di capire anche se visivamente la risposta sulla difesa di Don Cic è comportata oltre dai dati esatto ci sa però hai parlato di NBA Cup quindi direi di entrare buttarci a capofitto nell'argomento principale di questa puntata partiamo prima con un excursus su ciò che è successo e ciò che è passato quindi con la style prima del top e flop e poi parliamo e analizziamo meglio come è andata eccetera e quindi come andrà anche secondo noi con le previsioni finali eccolo qua vediamo un bel grafichetto con i nostri top e flop di questi gironi come sempre vedo un tuo flop che va su una squadra per insultare tutti perché non ti basta attaccare uno solo partiamo però dai top per avere un po' di buone di buone notizie io ho voluto dare come top come vedi e come vedete tutti 3 Young non solo per il suo gioco che ha dimostrato ma per quel secondo me l'impresa che è riuscita a fare a Atlanta magari ne parleremo anche dopo quindi ti dico giusto velocemente di 3 Young perché secondo me oltre ai 19-12 di media sta proprio dominando dal punto di vista dell'essere leader in campo ed è riuscito a portare Atlanta prima in un girone in cui aveva Boston e Cleveland quindi secondo me merita merita un premio dato da noi quindi non conta nulla ma io anche io ero indeciso tra Giannis e 3 Young tra i possibili tra i possibili top volevo mettere di nuovo Wagner ma l'avevo già citato settimana scorsa e quindi ho messo Giannis perché ovviamente nella ripresa dei Bucks che ricordiamo non più tardi di due settimane fa erano penultimi insieme a Philadelphia con due vittorie in stagione e diverse sconfitte la situazione adesso sia un po' sistemata dato che dal 12 novembre i Bucks sono nove vittorie e due sconfitte appunto in questo span di partite che comprende anche le vittorie nell'NBA Cup Giannis ha notevolmente alzato il suo livello credo che in questo momento sia realmente forse insieme ai due che abbiamo citato prima ossia c'è Gigius, Alexander e Tatum l'avversario per per l'MVP a Jokic perché sta giocando all'idea delle statistiche che sappiamo Gianni sia sempre stato in grado di mettere a referto ma un basket forse finalmente torniamo al discorso eterno più intelligente di quanto non ricordassimo negli ultimi tempi ha abbandonato un po' quei tiri dal mid range a tre che tanto gli abbiamo criticato nel tempo e è tornato a dominare sotto canestro e per fortuna mi verrebbe da dire e infatti ne ha giovato intanto Milwaukee che poi stanotte ha recuperato anche Chris Middleton quindi finalmente al completo sperando che il ginocchio di Middleton stia bene e quindi i Bucks che tornano a essere un po' sulla falsa riga di ciò che ci aspettavamo e niente quindi ho scelto Giannis proprio per questo perché è riuscito a portare una squadra che quando ha iniziato l'NBA Cup era una delle peggiori appunto ai quarti di finale anche perché Giannis Antetokounmpo possiamo dirlo che sotto canestro non ha avversari che possano contenerlo quindi nel momento in cui sceglie di fare quel gioco è unico e forse anche il migliore all'interno di questa lega come tu prima hai detto io ho scelto Antetokounmpo comunque perché volevo scegliere Wagner ma l'avevo già scelto altra settimana così anche io volevo scegliere di nuovo nei flop Alibarton però ho detto non mi sembra il caso visto che io voglio bene di insultarlo poi hai scelto di metterlo tu quindi penso che all'interno della tua scelta sia compresa anche Alibarton io ho messo invece come vedi Jamal Murray non tanto e non solo per questa NBA Cup ma un po' proprio in generale perché gli occhi ci stiamo vedendo sta giocando da MVP quindi lui più di quello più di stanotte o ieri notte ha fatto 29-20 e o tripla doppia con 20-20 sta facendo sta dominando come dicevi già tu dall'Olimpiade eccetera si sta vedendo un netto calo nelle prestazioni di Jamal Murray e se Denver in generale vuole fare qualcosa e se Denver voleva passare i gironi secondo me serviva un Jamal Murray nettamente diverso cosa che non c'è stato soprattutto perché ha tirato col 30% dal campo 35% cosa molto negativa secondo me e quindi per questo motivo ho fatto questa scelta qua no ma la sposo la sposo pienamente a maggior ragione dopo aver visto la partita che ho visto stanotte stanotte ho guardato gli highlights in questa stamattina è Cleveland Denver dove praticamente Jokic come hai detto tu con una prestazione monster ha tenuto attaccata la partita Denver contro probabilmente la squadra più in forma della Lega da solo cioè ma veramente da solo quindi al di là appunto cioè io ho detto prima che Giannis potrebbe essere a livello Jokic per l'MVP ma come anche Tatum e Sgama in realtà cioè per me di nuovo per il terzo anno consecutivo al di là del premio di MVP a Embiid non c'è partita cioè questo domina in lungo e in largo e il fatto che Murray sia nei flop mi viene da dire ancora peggio perché nonostante un compagno di questo livello forse basterebbe anche meno di Marry ci aveva abituato a fare per poter da ancora più valore a Jokic l'ha ancora più valore a Jokic ma toglie ancora di più a Murray perché magari potrebbe fare di meno torno su Indiana e mi dispiace perché l'ho scelta perché ha chiuso con zero vittorie la competizione dopo che l'anno scorso era arrivata in finale sorprendendoci tutti e l'MVC era stato un po' il trampolino di lancio per Indiana che poi aveva chiuso la stagione ricordiamolo con le finali di conference e con l'attestato di stima da parte di Boston che ha sempre detto nelle conferenze stampa Mazzulla Tatum Brown che comunque Indiana è stato l'avversario forse più difficile da affrontare nella run playoff dell'anno scorso quest'anno non stanno facendo nemmeno così male perché comunque adesso come abbiamo detto tante volte tempo per recuperare c'è però mi sembra che abbiamo un po' perso la rotta e in particolare la rotta l'ha persa da Elisa Libarton che infatti è appena sotto il logo cioè se tu togli il logo adesso dalle animazioni che abbiamo fatto i principali puntate è sicuramente Teresa Libarton sicuramente anche se secondo me anche da Siakam ci si può aspettare qualcosa di differente comunque sono due giocatori che hanno dimostrato di saper fare bene altre cose e quindi ci si aspettava di più finora poi c'è tempo soprattutto nella Esther Conference passiamo all'approfondimento sempre sull'NBA Emirates Cup perché come vedete facciamo prima magari un'analisi giusto veloce di come sono andati i gironi anche senza giusto per vedere chi è passato e chi no e poi nell'ultima parte ci concentriamo più su quali sono i knockout rounds così lo chiamano quindi i quarti di finale poi semifinale e finali sia con una breve analisi delle partite che con il nostro stupendo anzi le nostre stupende previsioni che andranno a fallire o reso state quelle dei ciro vorrei ricordare vorrei ricordare che io in tempi non sospetti ho detto che Charlotte poteva vincere questo torneo andrei a recuperare se volete la puntata con tutte le motivazioni che avevo dato e andate a vedere poi in realtà nel gruppo A dove è finita Charlotte con 0 vittorie 4 sconfitte quindi vabbè mi sa che non è passato che vi diciamo perché tanto è inutile mi sa che mi sa che Charlotte non è passata nella fase successiva invece sono passate come possiamo vedere dalla grafica vabbè le prime tre di ogni di ogni girone quindi New York Knicks Milwaukee Bucks e gli Indiana Base e sì gli Atlanta Hawks e poi invece la Wild Card è riuscita a ottenerla Orlando che è riuscita anche a arrivare diciamo a essere la seconda migliore all'interno del proprio gruppo e quindi non so se come abbiamo già detto volevo chiederti un breve parere sul fatto che ci aspettavamo tutte e due nelle nostre previsioni iniziali avevamo detto Boston e Cleveland sarebbero state sicuro nella fase successiva invece non ne vediamo nessuna dalle due esatto eccoci qua con Atlanta che ha vinto con entrambe tra l'altro ho visto una statistica bellissima mi pare che Atlanta sia l'unica squadra che ha battuto due volte Cleveland ma è anche l'unica che è riuscita a perdere con Washington quindi per farvi capire di che squadra stiamo parlando molto molto morale e siamo quasi riusciti a far passare i Pistons perché ti ricordo che è vero io ho detto una castroneria su Charlotte ma i Pistons avevamo detto che forse potevano rischiare di passare non ci sono andati 3 a 1 esatto sono stati sfortunati alla differenza punti Orlando è passata nonostante l'assenza di Banchero ma di nuovo torniamo a parlare benissimo di Wagner Boston che in realtà poi è uscita appunto per la sconfitta contro Atlanta perché altrimenti come differenziale di punti era posizionata meglio di Atlanta ma ha perso appunto lo sconto diretto e quindi sicuramente ad est delle partite che saranno comunque credo equilibrate ma le vedremo nel tabellone dopo ad Ovest invece la situazione qua mi prendo un grandissimo l'avevo detto invece e forse la vediamo sentiamo non ricordo perché i ragazzi di Houston invece sono passati alla grande e questo sì anzi l'avevamo detto ne avevamo parlato bene nelle scorse puntate ma Houston non è più una sorpresa attualmente seconda ad Ovest mi pare o terza secondo terza comunque una delle squadre sicuramente che più ha sorpreso in questo inizio sospettiamo la grafica con le classifiche poi come ti ho ricordato prima OKC ovviamente e poi anche i gol di Stade tutti e due avevamo previsto OKC e Houston quindi possiamo ritenerci un minimo fieri anche se abbiamo poi sbagliato le altre due perché tutte e due avevamo previsto Denver cosa che in realtà non è accaduto per colpa diciamo al Murray come abbiamo già detto e poi vabbè è l'attivo per cui l'hai scelto dei flop alla fine perché ti ha fatto saltare i pronostici perché mi ha fatto perdere tutto quello che mi ero giocato qua qua sopra e poi i Lakers e Phoenix cioè io avevo messo i Lakers ma non ne parliamo tu avevi messo Phoenix che in realtà è arrivata anch'essa 3 a 1 quindi proprio dietro a OKC però ha perso lo scontro diretto contro OKC tra l'altro con un più 30 di differenziale quindi in realtà Phoenix non ha neanche fatto così male soprattutto per si è tornato OKD esatto è stata sfortunata è stata sfortunata per il fatto che Dallas avesse un più 46 di differenziale che era difficilmente battibile però diciamo che la mia delusione ad Ovest è stata un po' Memphis ma credo sia stata anche un po' sfortunata perché in realtà Memphis sta facendo molto bene è stata un po' sfortunata penso che le parti dell'NBA Cup sono coincise con i momenti in cui erano più in emergenza e quindi a non possa ha abbandonato l'idea di passare sicuramente l'Ultanai agevolata da un girone forse il più facile alla fine visto le condizioni quello che stavo dicendo velocemente è che quando comunque pensavo ai flop guardavo le squadre uscite eccetera Memphis era tra quelle che mi aspettavo di più però non mi sono sentito di dire flop perché comunque ha un milione di problemi e anzi secondo me è più top il fatto che stia facendo bene con questi milioni di problemi ma come comunque abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate però se vogliamo passare alla parte finale più che altro perché almeno abbiamo la grafica anche con qua vedete anche già i nostri previsioni però analizziamo brevemente anche le 4 6.4 4 quarti di finale perché secondo me alla fine è la parte più interessante e poi anche le nostre previsioni partendo Dani da OKC Dallas che sarà la tua preferita senza dubbio sì è la mia preferita di sicuro ma sarà anche l'unica partita che vedremo di OKC in questa parte finale perché sappiamo come dice no il problema non è tanto Dallas il problema è PJ Washington che poi quando gioca contro di noi si trasforma in Michael Jordan e quindi già sta giocando come Michael Jordan esatto mi aspetto proprio la solita prestazione incredibile non solo a livello di punti ma anche rimbalzi contro di noi sembra non so Olajuan veramente è PJ Washington però a parte gli scherzi credo che sulla partita singola forse Dallas possa avere qualcosina in più e l'ha dimostrato non solo quest'anno nello scontro con OKC ma anche l'anno scorso ricordiamo le finale di conference e quindi per quello ho messo Dallas ha maggior ragione con l'assenza di Chet Holmgren è vero che abbia recuperato che abbia recuperato Artenstein però sono un po' poco fiducioso su questo mentre invece credo che Houston contro Coldestate possa passare anche se mi aspetto una super prestazione di Curry nei quarti di finale perché i grandi campioni l'abbiamo visto l'anno scorso Lebron ci teneva molto e ha vinto poi alla fine questa competizione credo che Curry la possibilità di portare a casa un altro trofeo da aggiungere alla Bacheca comunque se la giocherà al massimo immaginavo che avessimo diverso anche Houston e Golden State pensavo perché comunque forse sulla carta è quasi favorita Golden State tanto che questa notte si è giocata appunto Houston e Golden State finita 99-93 per Golden State stenza Raymond Green e Steph Curry quindi un fallimento totale per Houston che perde contro Golden State da 15 partite quindi praticamente penso da quando c'era Arden se non erro e quindi tutti i pronostici vanno a favore di Golden State tanto più la loro forza la loro mentalità capacità di affrontare queste gare il motivo ed ecco perché entrambi l'abbiamo messa perdente perfetto perdente però c'è un motivo il motivo per cui io l'ho messa perdente è che secondo me Houston se vuole già quest'anno dimostrare di essere la squadra che sta facendo vedere di essere e questo è il momento in cui secondo me deve dare il massimo ancora di più forse che poi non dico i playoff però ha più chance adesso di magari portarsi a casa un titolo comunque importante perché è alla fine l'unico che può vincere oltre l'anello che poi nel finale di stagione quindi secondo me ci potrebbe essere questa svolta questa importante per raggiungere la prima vittoria dopo 500 sconfitte di fila contro Golden State volevo farti una breve leggerti una breve dichiarazione invece su OKC Dallas per tutto il fatto che vabbè vedo OKC non abbandaggiata di più ti leggo anche ti leggo anche però in realtà in realtà l'aveva sentito in realtà la tipo anche però Cason Wallace ha detto dopo l'ultima partita in cui si sono qualificati ha detto io onestamente non sto capendo nulla di come funziona sta coppa so solo che voglio vincerla quindi alla fine l'importante è che a Cason è su un altro livello cioè a Cason non ne frega niente di niente so pia in realtà lui avrà visto il monte premio e ha detto sai cosa vi dico per tre partite le gioco al massimo che magari mi faccio qualche regalo ti dico un altro che ha visto il monte premio e ha detto proprio questa cosa ma lui non l'ha solo pensata l'ha scritta in un tweet ed è Josh Hart dei New York Knicks che vedo abbiamo messo tutte e due vincitrice contro gli Atlanta Hawks Josh Hart ha scritto gli hanno fatto una domanda nel post partita dell'ultima partita di NBA Cup dove gli dicono ma quindi contando che chi vince prende 500 mila dollari a testa immagino che voi un po' più veterani un po' più superstar vogliate fare questo regalo ai giocatori che prendono pochi soldi pochi secondo i giornalisti all'interno del vostro roster e lui ha detto in realtà a me non frega niente io voglio comprarmi una macchina nuova e gli orologi nuovi questa è stata e mi ha convinto a me perfetto mi sembra mi sembra l'analisi perfetta credo che oltre appunto alla motivazione di soldi io il motivo per cui ho visto ho scelto i Knicks sopra Atalanta nello sconto diretto è che i Knicks a dispetto delle attese hanno il materiale difensivo da opporre a Trae Young ma ne abbiamo parlato anche in settimana nei nostri soliti messaggi ti ho mandato che in questo momento i Knicks sono anche il miglior attacco della Lega con 123.6 di offensive rating e quindi una cosa inaspettata credo che un po' la chimica di squadra si sia trovata un Carl Anthony Towns sempre più coinvolto e coinvolgente con i compagni e anche io ho visto miglioramenti da parte di Bridges che finalmente a parte la oscena nuova forma di tiro che ha sviluppato mi sembra un po' più un po' più dentro la squadra quindi per quello che ho scelto i Knicks su Atlanta e il motivo per cui invece ho scelto Miluocchi su Orlando è che credo sia una questione qui di abitudine a giocare certe partite è vero che la difesa di Orlando potrebbe dar fastidio ai Bucks però credo anche che forse il Dame Time potrebbe svilupparsi proprio al massimo in queste partite se è che non so cosa ne pensi tu in realtà è proprio il motivo per cui anch'io ho messo Miluocchi ci siamo già detti durante le altre puntate che vedere Miluocchi ti fa da una parte dire cavolo come fanno a non vincere dall'altra parte dire cavolo capisco perché non vincono ma al tempo stesso si è visto come in certe partite sia ad esempio io avevo visto quella contro Boston i due le due superstar cioè Lillard e Antetokounmpo riescono ad alzare il livello e dominare entrambi quindi nel momento in cui in gara secca hai due così che ti possono mettere tranquillamente magari 35-40 punti a testa 10 rimbalzi 10 assist 1 5-6 triple sulla gara secca poi magari se mi avessero parlato già di una serie magari al meglio delle 7 tra Orlando e Miluocchi forse avrei detto più Orlando in questo momento sulla gara secca invece vedo Miluocchi erò già ce ne è senso non però anch'io ho fatto lo stesso ragionamento ma mi ricordo che abbiamo fatto lo stesso ragionamento l'anno scorso per i play il NBA Cup dell'anno scorso e poi Miluocchi ha perso miseramente contro Indiana mi sembra alla fine quindi direi che comunque Orlando non parte spacciato assolutamente è vero che non avrà ancora banchero però in questo momento la squadra sta girando molto vede lo stesso e quindi sarà comunque una sfida interessante poi sulle semifinali sulle semifinali ho scelto scusa se ti interrompo poi ti ricedo la parola ho scelto ancora Knicks contro i Bucks proprio per una questione di organizzazione di squadra mentre invece poi ad ovest ho preferito Dallas a Houston perché credo che lo star power di Dallas in questo momento sia ancora un po' superiore rispetto a quello di Houston e sempre per il discorso che voleva prima per Yannis e Dame quello che possono dare Doncic e Carrier nella singola partita sia un po' superiore anche alla super difesa di Houston e poi tra Knicks e Dallas ho scelto ho scelto Dallas perché non lo so mi piaceva così volevo far vincere Dallas qualcosa così la smettono di rompere le palle a Luca in primis il sottoscritto e magari ai playoff non se la prendono tanto con OKC anche perché hanno già vinto pancia piena e via una cosa che volevo dire prima su Milwaukee e Knicks che sono le due che abbiamo scelto come semifinaliste che sono le uniche due ad essere arrivate ai quarti di finale anche l'altro anno quindi questo ti fa capire quanto è bariegata comunque la forza all'interno della lega e quanto è importante anche fare una una coppa a inizio stagione che comunque dà chance a tutte di competere al meglio quindi questo secondo me è un punto a favore ancora di più della coppa ma già ne avevamo parlato bene come vedo io non convenerò al tuo prorostico perché non mi piace più niente quindi non lo dico lo vedono già no in realtà c'è una motivazione cioè l'anno scorso in questa puntata io ero qui a dire che i Boston Celtics avrebbero vinto la NBA Cup e hanno perso quindi non so magari ci facciamo poi il prossimo anno a vicenda ci asciughiamo le lacrime a vicenda perché non mi prendo solo io quella batosta di averli previsti anche se in realtà tu non l'hai previsti però secondo me in realtà la tifo anche non è che la voglio gufare perché se ho detto Boston Altran in realtà è che mi piace molto a OKC e io sono essendo fan anche di OKC li vedo come superiori a tutti non so cosa farci e quindi no ma lo scelico guarda se il finale di stagione è lo stesso che avete avuto l'anno scorso mi va benissimo sirmi tu pronostico che si firmo è il tuo pronostico che vede o che si vincente che poi non succederà appunto come è successo a Boston l'anno scorso però poi il Lerio Brian a giù io ce lo portiamo a casa noi e va benissimo così beh ma sarei felice anch'io comunque te lo devo dire siamo le nostre abbiandette anche questa volta ricordo che le semifinali e le finali saranno fatte a Las Vegas intanto perché c'è questa cosa molto divertente mentre ancora i quarti di finale saranno infatti saranno fatti in casa di una delle due squadre e poi ricordiamo anche che come se che verranno fatte nella prossima settimana quindi se non sbaglio tra martedì e mercoledì si giocheranno per controllare questa cosa se non sbaglio si giocheranno tra martedì e mercoledì due martedì e due mercoledì esatto e poi quindi già nella prossima magari puntata potremmo velocemente vedere quali sono state le semifinaliste e soprattutto vedere quanti pronostici abbiamo sbagliato perché è anche la parte che ci diverte speriamo di no anche perché ci siamo un po' alternati anche per provare a non sbagliarli tutti diciamo che per questa volta per questa puntata anche oggi è finita siamo contenti come sempre di aver trattato un po' di temi che riporteremo poi durante la settimana avremo voglia anche di analizzare di farvi nuove domande farvi nuovi sondaggi come quelli che abbiamo fatto nelle scorse puntate vediamo se il nostro pron si riprende un minimo ma soprattutto siamo pronti a vedere le semifinale il quarto di finale di NBA Cup insieme a voi e poi commentarli nella prossima puntata Dani se non hai nulla da dire ti ringrazio e come sempre ci vediamo la prossima puntata venerdì prossimo un saluto a tutti come sempre vi ricordo di scaricare l'app di Tannaro Passport e di seguirci su tutti i social un saluto e grazie ciao ciao a tutti